amici dei fumetti aspettatevi 22 settimane di fuoco presto capirete perché ho detto questa cosa la gazzetta dello sport è un covo di anti juventini ed è un giornale che soltanto a vederlo mi mette ansia perché sapete chi mi segue che sono juventino però bisogna dare a cesare qualche di cesare a livello di competenza fumettistica non sono secondi a nessuno ogni collana che loro fanno uscire è qualcosa di entusiasmante hanno fatto anche uscire il cavaliere mascherato che non recensirò perché è una serie che a me non piace so che è storica so che è popolare però non mi interessa per cui non mi metto a recensire una cosa che non ho amato in gioventù e che non mi metterò certo a leggere adesso in maturità come si suol dire ma ma in compenso in compenso c'è una collana che ha ispirato una famosissima serie televisiva in streaming che sicuramente molti di voi avranno visto che appunto si chiama come omonimamente the boys che cos'è the boys intanto vi faccio vedere qui dietro di me come verrà completata la collezione con un'immagine perché le coste di ogni numero andranno a comporre una bellissima immagine in 22 volumi che costano adesso mi metto gli occhiali perché non me lo ricordo costano ogni numero 7 euro 8 euro dai che a me il 99 marotti ma non sarebbe ora che lo togliessero 8 euro ogni numero per cui per per completarla tutta ci vorranno più o meno 200 euro perché sono 22 numeri 80 sono per 10 160 più due sono 16 e sono 200 euro dai 170 180 euro insomma più o meno 200 euro è però settimanale quindi magari se la potete anche fare che cos'è the boys allora innanzitutto bisogna parlare della dell'autore gareth hannis gareth hannis non so se lo sapete che è un genio dei fumettisti tra i fumettisti odia i supereroi li odia lui non vede il buonismo dell'uomo ragno dei fantastici quattro di capitano america di superman di wonder woman non ho volutamente citato hulk e batman perché sono forse un po gli unici fuori delle righe di fatti sono i miei preferiti perché batman quando si incazza si incazza e hulk quando si incazza si sta incazza no the boys è un fumetto per certi versi arriverente perché perché i supereroi che si vedono in questa serie di 22 volumi sono dei pezzi di merda sono volgari sporcaccioni violenti irresponsabili non si comportano bene vanno contro la legge insomma sono dei veramente dei pezzi di merda è un fumetto chiaramente dedicato a un pubblico maturo se avete dei bambini vi sconsiglio fortissimamente di farglielo leggere perché ci sono anche scene diciamo particolarmente spinte di vario di vario genere di violenza e di sesso però ragazzi il fumetto deve avere tutte le forme e tutte le manifestazioni dell'umano pensiero non può esserci soltanto biancaneve i sette nani nella casetta in mezzo al bosco si sta anche che ci sia il deadpool della situazione che è scorbutico sporcaccione maleducato irriverente the boys appunto lo stesso deponation di gareth edwards insomma ci sono ci sono hannis edward per cui insomma che the boys è una collana tra l'altro è disegnata benissimo perché vi faccio vedere vi faccio vedere qualche disegno guardate disegnata benissimo e che è un po diciamo fuori dalle righe ci sono dei soldati o meglio degli agenti più che soldati perché forse la prova giusta è agenti in incognito della cia che vogliono fare pulizia di questi supereroi appunto di cui vi ho appena accennato è interessante la storia come si dipana magari chi ha visto la serie tv avrà magari già idea di che cosa lo attende però vi assicuro vi assicuro che avendo dato un'occhiata alla serie tv e conoscendo il fumetto il fumetto è veramente tutta un'altra cosa in meglio in meglio io non sono mai stato un amante delle trasposizioni cinematografiche o televisive dei fumetti per me il marvel comic universe salvo quattro cinque film è come diceva il buon fantozzi una cagata pazzesca ho visto stravolgere la vita di del uomo ragno di capitano america di hulk cioè adesso io attendo con ansia i fantastici quattro perché nel marvel universe sono i miei personaggi preferiti dopo i due film discreti che aveva fatto la la fox e quello orribile senza senso che poi è stato fatto come terzo film quasi quasi in spregio alla marvel che non aveva i diritti per cui the boys è una serie che mi sento di consigliare a chi ama i fumetti che vanno sopra le righe ai fumetti che non sono il buonismo che non sono bello bravo intelligente e furbo papà è morto lo zio è morto il nonno è morto il papà la mamma poverina e poverei cioè è un fumetto che ovviamente ti fa riflettere ti fa riflettere del come un autore appunto gare tennis sia così accanito contro i supereroi da un certo punto di vista da un certo punto di vista lui ha una visione dei supereroi così una mia interpretazione come se fossero tutti magneto come se fossero tutti il dottor destino come se fossero tutti il burottinaio l'uomo talpa dottor octopus goblin capite cioè dei villain cioè dei cattivi ed effettivamente se ci si va a guardare bene a volte noi i nostri beniamini i nostri eroi noi i nostri uomo ragno i nostri capitale america i nostri iron man i nostri acqua man i nostri wonder woman chi più ha più gana e metta fanno abuso del loro potere nel senso che a volte fanno i giustizieri no lo stesso arrov che avrete visto derivativamente parlando che la trasposizione al mio modo di vedere mal riuscita di green arrow fumetto bellissimo è un giustiziere che si fa giustizia da sé ma sappiamo benissimo che lo stesso batman sappiamo benissimo che non si può è illegale poi è chiaro che nella trasposizione funettistica e anche cinematografica perché no perché batman a differenza degli altri ha quasi tutti i film belli va detto da barton in avanti sono quasi tutti belli i film dedicati a batman ma perché si presta il personaggio perché cupo violento e gotico però ripeto quando si parla di un di un supereroe non possiamo vederlo solo nell'accezione positiva del buono che sconfigge il cattivo per cui io consiglio a tutti quelli che vogliono avere una visione distopica uso questo termine meraviglioso del fumetto americano the boys sono 22 numeri provate a prendere primo se vi piace deciderete di continuarlo se lo trovate troppo sporco e violento lo smetterete ma secondo me lo comprerete tutto guardate cosa vi dico io vi auguro come sempre una buona giornata fatemi sapere se vi piace il fumetto quando l'avete letto magari e tornate qua nei commenti insomma sono curioso di sentire la vostra ciao a tutti grazie Grazie a tutti